Ok, dovremmo essere live, controllo sul profilo Nishitalia. Ci siamo, ok. Benvenuti e benvenute a questo quarto incontro del primo ciclo di formazioni 2021 del Servizio Civile Internazionale. Allora, questo ciclo di formazioni è in modalità metà online, metà in presenza, a causa della situazione in cui ci troviamo. Comunque per noi è molto importante perché pensiamo che le formazioni sci siano qualcosa che caratterizza la nostra associazione. Questo è il modulo politico, fa parte del ciclo di formazioni a cui sono iscritti i volontari e le volontarie, ma siamo in diretta su Facebook, quindi tutti quanti possono guardare il video e anche fare domande. Chiedo ai volontari e alle volontarie di dare un segno scrivendo un post o mettendo un mi piace al video in modo che potremo segnare le presenze. Alla fine dell'intervento di Riccardo, se ci sono delle eventuali domande, invito i volontari o le volontarie o chiunque a scrivere la domanda che poi verrà letta. Vi introduco Riccardo che conosce molto bene lo sci, è stato coordinatore dal 2011 al 2015 e oggi ci parlerà della TAV, del movimento No TAV e di altre grandi opere inutili. Riccardo, ti puoi presentare un secondo? Grazie mille, mi fa molto piacere poter esserci, è veramente un peccato non esserci di persona perché le formazioni per i campi estivi erano tra le cose che più mi davano soddisfazione nel lavoro allo sci, però appunto nella situazione pandemica ci troviamo a dover contribuire in questa formula qui. Sono però contento di essere qui. Cercherò di raccontare in breve un po' la questione, anche se immagino che molti e molti di voi già abbiano una conoscenza o quantomeno un'infarinatura delle ragioni della lotta in valle per poi ampliare la questione in più a un discorso un po' più ampio, relativo proprio al modello di sviluppo che nell'ambito di una crisi climatica e sistemica, quella che stiamo vivendo, dovremmo immaginare o quantomeno dovevo mettere in discussione. Parto con una breve presentazione. Come vedi stanno già arrivando i primi commenti, quindi sta funzionando e ci sono. Bene. Ok. Ah, sta arrivando. Ok, adesso la metto in grande. Ok, si vede. Aspetta un attimo. Sì, sì, vai. Ok. Cosa stiamo parlando quando parliamo di TAV in vassuta? Si tratta di un percorso di treno ad alta velocità, che non è altro che un raddoppiamento di una linea già esistente, che dovrebbe collegare Torino a Lione, raddoppiando appunto la linea già presente, con i costi che avete in questa sezione, per una sezione, è composta da tre parti. Una parte in Francia, una parte in Italia e poi la cosiddetta sezione transfrontaliera, che è costituita per lo più da tunnel. Qui, riuscite a vederli meglio. Una delle cose interessanti è che se anche la parte italiana è la parte più piccola del progetto stesso e poi l'Italia, quella che sta mettendo il 52% del contributo, nonostante i costi poi siano superiori della parte francese, ma questo rientra poi proprio nel sistema che si è creato attorno a questa grande opera. Nell'estate scorsa c'è stata una corte presa di posizione da parte della Corte dei Conti europea. Ricordiamo che qua stiamo parlando di un'opera che va avanti dal 1990, i primi progetti di raddoppiamento della TAV stessa, dell'addoppiamento della linea ferroviaria che collega la Francia con l'Italia e la Corte dei Conti nel luglio dell'anno scorso ha criticato che cosa? Tante cose ha criticato, tra queste di sicuro il grandissimo ritardo a cui l'opera è stata costretta. E poi, ne parlerò nei punti successivi, oltre al ritardo anche al fatto che è un'opera che non è stata coinvolta la cittadinanza in maniera adeguata e di cui sono stati calcolati in maniera sovradeterminata i benefici possibili. Inizialmente avrebbe dovuto, e quindi proprio per queste ragioni qui, è stata una forte bocciatura all'opera in sé e alla visione in sé che ci sta dietro. Al momento abbiamo una data inaugurazione attuale, una stima più recente al 2030, ma molto dubbio che sia tale, mentre l'inaugurazione prevista doveva essere nel 2015. Ad oggi non c'è questa grande opera, ci sono delle opere accessorie, ci sono un tunnel esploratorio che è quello appunto di Chiomonte che avrete potuto sentire nominare più volte, ma non c'è la linea in sé. Quindi siamo, lo stato di avanzamento, possiamo dire che siamo ancora a zero chilometri. Il tunnel famoso che ha costato appunto una durissima lotta al movimento Notav, il tunnel del cantiere di Chiomonte, non è altro che un tunnel esplorativo, cioè non è il tunnel che verrà utilizzato dalla ferrovia stessa, ma è un tunnel geognostico che serve a misurare la compattezza della roccia che si andrà successivamente a bucare per poter far passare la ferrovia. Per quanto riguarda la parte francese, hanno deciso in maniera definitiva che tutto è rinviato a dopo il 2038, per cui stiamo andando avanti noi su una cosa che dall'altra parte, una volta sbucato dal tunnel, per decisione dello Stato francese stesso, non se ne parla fino al 2038 di portarlo a compimento. Cosa comporta appunto la parte italiana? Un po' quello che vedete, una tratta appunto, una linea esistente, che da Susa dovrebbe deviare attraverso quello chiamato il tunnel di base e arrivare direttamente a Saint-Jean-de-Maurienne in Francia. Esiste attualmente una linea ferroviaria che però non buca la montagna a Susa, ma più in su a Bardonecchia collegando Bardonecchia con Modane. È interessante questa fotografia perché voi direte, siamo a Bardonecchia, quindi siamo già al confine e c'è già un treno ad alta velocità. Perché? Perché appunto la linea ferroviaria è esistente, i tratti ad alta velocità esistono. Quello che si vuole fare è raddoppiarla, raddoppiarla e quindi crearne altre due, altre due binari che passino sotto un tunnel, a quale finalità? Con la finalità di accorciare la distanza, perché è una tratta che facendo più percorso maggiormente in sotterraneo, sarà un percorso anche più rettilineo, e quindi accorciare il tempo di percorrenza tra Torino e Lione stesso. Tempo di percorrenza che però è stato già ampiamente dimostrato non essere la ragione principale della giustificazione dell'opera, perché i flussi di persone tra Torino e Lione non giustificano un'opera di questo tipo perché non ci sarebbero trani da riempire ogni giorno per andare da Torino a Lione in un tempo così ridotto, non c'è necessità in termini di spostamenti delle persone e proprio per questo una delle giustificazioni più forti che è stata portata avanti dall'impresa stessa e dallo Stato che la difesa è che questo fosse invece finalizzato al trasporto delle merci. Ma vediamo allora quali sono questi flussi di merci. Come potete vedere negli ultimi vent'anni il traffico merch tra Italia e Francia è rimasto sostanzialmente statico. Gli incrementi di traffico hanno riguardato altri versanti dell'arco alpino, cioè l'Austria e la Svizzera, verso la Francia dall'87 ad oggi è rimasto sempre lo stesso. Per quanto riguarda gli altri valli chialpini rispetto alla Francia, c'è una costante diminuzione, quindi sia al Monte Bianco che in Val Susa c'è stata una riduzione di oltre il 30% rispetto ai livelli del 97, poi si è mantenuto più o meno la stessa, complessivamente la stessa ammontare perché questo è stato compensato da altri valichi come quello di 20 miglia o altri ancora appunto con il versante francese. Parliamo invece di traffico di merci. I dati reali sono quelli che vedete, appunto traffico di merci costante in moglioni di tonnellate. Le previsioni proponenti parlano di progetti che sono palesemente sovrastimati. Lo stesso commissario del governo lo ha ammesso nel novembre del 2017. È stato detto esplicitamente che i costi erano stati sovrastimati. I costi che erano la giustificazione, questa crescita di esponenziale del traffico verso la Francia, di merci verso la Francia, sarebbe stata la giustificazione per spiegare appunto la costuna della TAV, anche perché è l'altra giustificazione, parte della retorica a favore della TAV, è data dal fatto che viene giustificato con la possibilità attraverso la linea ferroviaria di spostare il traffico di merci da ruota, quindi dall'autostrada che già fa lo stesso percorso alla ferrovia. La linea esistente, quindi viene detto che la linea esistente ha già una capacità che è quella di 19 milioni di tonnellate l'anno e potrebbe crescere fino a 32 milioni di tonnellate, per cui la linea esistente attualmente è sottostimata, cioè è utilizzata meno di quello che viene chiamato il livello di saturazione. Per cui da oggi la linea ferroviaria può ospitare da 7 a 11 volte l'attuale traffico merci, quindi la sua capacità è tra il doppio e il triplo del massimo storico avuto nel 97. Vedete che nel 2017 sta progressivamente calando. Il rosso è la ferrovia, il grigio è la strada. Quindi potrebbe ospitare la linea esistente, se ci fosse la volontà, tutto il traffico merci in valle, susa, sia quello di strada e quello di ferrovia. Qual è la questione di fondo? Non lo fa, non lo ospita perché comunque non c'è, scusate, comunque la linea esistente non viene utilizzata sufficientemente e perché dal tempo stesso va ricordato che il... scusate, ancora stacco perché mi si apre Skype, ecco, l'altra cosa che stavo spiegando appunto è che per come è configurata la logistica oggi è ancora estremamente dipendente dal traffico su gomma. Per cui da un lato c'è una linea esistente che è sottoutilizzata, che potrebbe essere utilizzata molto di più di quanto non sia, dall'altro c'è una modalità della logistica contemporanea che è ancora altamente dipendente dalla gomma e che quindi rende un discorso banale come facciamo un'altra linea della ferrovia così tutta la gomma andrà su ferrovia e risparmieremo in carburanti e in inquinamento, lo rende come un discorso profondamente incongruo perché è proprio come se la logistica non si modifica rispetto al tempo in cui viviamo non c'è questa possibilità di poter spostare su ferrovia il traffico che è su strada. Guardiamo su passeggeri, questa è l'offerta attuale, come vedete da Torino a Lione ci sono tre treni al giorno, un quarto non va a Lione, va direttamente a Parigi e questi tre treni al giorno ci mettono quattro ore e così dalla Francia all'Italia altrettanti tre treni al giorno. Quindi tutto quello che, se volessimo invece tornare a giustificare l'opera dal punto di vista dei passeggeri, tutto quello che la ferrovia esiste già, ci sono già quattro treni, non ce ne bisogna di ulteriori perché non c'è una richiesta, non sono treni che vanno esauriti e tutto quello che accadrebbe è che questi quattro treni al giorno avrebbero un'altra linea ferroviaria che percorrerebbe la distanza, se calcolato, in circa 45 minuti in meno rispetto a quelli attuali. Qui ci sono alcune precisioni relative alla sicurezza che possiamo andare oltre e passiamo invece al bilancio ambientale. Come potete immaginare bucare una montagna ha un costo ambientale elevatissimo. Il progetto si immagina che diventerà carbonio positivo nel 2038. Cosa vuol dire carbonio positivo? Vuol dire che il percorso, la indire carbonica prodotta nel costruirlo verrà compensata dalla riduzione di energia carbonica nell'aria. Però tutto questo potete immaginare che è tutto questo se la nuova ferrovia è completamente costruita in esercizio. Se c'è un trasferimento del 55% del traffico merci su gomma, in caso non è sicuro, e se le previsioni di incremento dei traffici sono corrette e altrettanto non è sicuro. Quindi stiamo già parlando che abbiamo bisogno di ridurre l'energia carbonica prodotta nell'aria nel 2030, perché abbiamo questi scenari dati da la scienza internazionale per quello che riguarda il cambiamento climatico. Avremo un'opera che ha in carbonio negativo di sicuro fino al 2038 e se mai diventerà in carbonio positivo, quindi con un bilanciamento positivo, accadrà solo se le previsioni sono corrette e abbiamo detto che non lo sono, e se il trasferimento ci sarà il 55% di traffico su gomma che passerà su ferrovia. Abbiamo detto che per come costruita la logistica contemporanea sarà molto difficile, quindi un bilancio ambientale che non andrà mai in positivo. Per fare questo appunto che cosa c'è? C'è tanta esistenza in Valsusa, un'esistenza molto importante che vede donne, uomini, giovani, anziani trovarsi assieme, vedete alcune immagini dei vari presidi, questo è dei mulini proprio sottostante alla cantina di Chiomonte l'estate scorsa, una resistenza che partendo da un rifiuto all'opera sta un po' nel corso degli anni è riuscita ad ampliare lo sguardo e a porsi questioni più ampie, quali proprio il rapporto tra la democrazia e il proprio territorio e quindi il rapporto, il ruolo di chi abita un territorio nelle scelte democratiche sulla gestione del territorio stesso, da un lato, e dall'altro parla di persone che hanno reso il concetto appunto di cittadinanza attiva non soltanto la possibilità di mettere like a post su Facebook, ma l'hanno trasformata in un mettersi in prima persona, metterci la faccia per raccontare e testimoniare quello che vogliono e che non stanno rifiutando un'opera in nessuna forma per quella che è stata chiamata nel corso degli anni la sindrome Mimbi, cioè not in my backyard, non per che non accada nel mio cortile, ma la stanno rifiutando all'interno di una visione più ampia e sistemica del paese in cui vogliamo. E mi fermo un attimo su questa fotografia perché è significativa, perché al presidio notav dei mulini di quest'estate ha partecipato con forza e determinazione Fridays for Future Italia, e Valsusa in particolare. Cosa vuol dire questo? Che la crisi climatica avvicina lotte ambientali come quella valsusina che proseguono da decenni, ricordiamo, dei primi anni 90, con lotte ambientali moderne che partono dal presupposto che c'è una maggiore consapevolezza sulla gravità della situazione climatica e una maggiore consapevolezza del fatto che vada completamente ripensato un modello di sviluppo, un modello di crescita e un modello di relazione col territorio. Per questo il movimento notav è così importante, perché tutto questo modello lo ha messo in discussione ed è riuscito a partire da una vicenda locale per dargli una visione e un'ottica che è diventata sempre più globale. Questo perché? Per l'intelligenza delle persone che lo hanno animato, per la possibilità di mettersi appunto in gioco, in discussione in prima persona e poi perché la Valsusa è diventata un luogo di incrocio di attivisti e attivisti di tante parti del mondo che hanno permesso alla Valla di non essere un luogo marginale o un luogo, se vogliamo, dove vivono e dove appunto ci si chiude in se stessi per rifiutare quello che è un concetto generico di sviluppo. Ecco, la Valle non è questo, anzi, la Valle guarda al futuro, guarda il futuro delle future generazioni, guarda il futuro di tante lotte e battaglie per diritti e per la dignità che ci sono in tante parti del mondo e proprio da questo è riuscito a maturare una visione sistemica e di pensiero su quello che deve essere un futuro dignitoso per tutte e per tutti che non sia schiacciato dagli interessi di pochi. Concludo dicendo, questo ho sempre immagini da quest'estate, perché ci sono così tante grandi opere in Italia e perché queste sono così spesso criticate e duramente contestate. Il modello delle grandi opere è un modello che si impone all'interno di un paese in cui le infrastrutture sono in mano a pochi gruppi impenditoriali, CMC, Impregilo, Salini, sono 4 o 5 quelli che fanno strade, autostrade, ferrovie, buchi, tunnel, sono sempre le stesse. Questi pochi gruppi impenditoriali hanno un potere fortissimo sulla politica e quindi sono sempre riusciti ad imporre un certo modello di sviluppo basato sul tondino e sul cemento e sulla perforazione del territorio che oggi come oggi non è più, non solo non è sostenibile, ma non è, torno a mostrare il volto, così. È un modello che non è proprio attuale, non è un modello che è congruo rispetto all'epoca storica in cui stiamo vivendo, non è un modello che è possibilmente connesso con il mondo e con quello che ci dice la scienza, con quello che ci dice il futuro possibile. Perché? Perché è evidente che il modello economico globale in cui viviamo oggi è insostenibile, che ci sta portando davanti sempre più rapidamente verso un disastro ecologico senza precedenti. E se continuiamo a rimanere ostaggio di piccoli o grandi soprattutto gruppi imprenditoriali che riescono a fare esercitare la propria pressione con fronte della politica e quindi davanti a una politica che nel gestire la scelta rispetto alle grandi opere va più per rapporti clienterali che per bisogni della popolazione, ecco, rimarremo sempre nella condizione in cui siamo e soprattutto non faremo nulla per arrestare la crisi ecologica e climatica che stiamo vivendo. Sono tante le grandi opere inutili e inutili impattanti che ci sono nel nostro paese e tante le resistenze che si sono costruite attorno. Molte di queste riguardano direttamente le fonti fossili e quindi di nuovo ci colleghiamo direttamente con la questione ambientale ed ecologica, basta pensare alla lotta contro la costruzione del TAP, cioè di un gasdotto in Puglia, il coordinamento dei comitati abruzzesi che lotta contro l'espansione del gas per opera di SNAM, l'opposizione anche qui all'alta velocità in quello che è chiamato il terzo valico, cioè la terza linea ferroviaria che collega Genova, il porto di Genova con il nord-ovest d'Italia. Insomma, in tanti e tanti luoghi si è visto questo contrasto, questo clash appunto tra scelte del governo dettate da legami con grandi gruppi impeditoriali, scelte che non tengono in considerazione la popolazione e che mancano condivisione sistemica rispetto a quello futuro che vogliamo. Nussuna di queste scelte riguarda una visione ecologica e sistemica del rapporto tra donne, uomini e l'ambiente naturale in cui stiamo all'interno di una necessità sempre più urgente di ridurre le nostre emissioni dei gas e più malteranti, che è una cosa che è quanto più impellente e su cui è necessario che i governi in primis facciano la loro parte e non dicano ai cittadini rinuncia la tua auto privata. Sì, certo, ci bisognerà arrivare anche a quello, probabilmente in alcuni contesti, ma se le scelte globali dell'economia del paese, siamo anche in una fase in cui si parla e si abusa del termine transizione ecologica, se quelle scelte globali sono caratterizzate in questa maniera, è ovvio che non può cambiare il sistema e non cambiando il sistema ci porterà inevitabilmente verso un disastro ecologico ambientale, ma anche umano. L'altra cosa che quindi dicevo, appunto, grandi opere dettate dagli interessi dei grandi gruppi impeditoriali, spesso di non grande utilità, questo è anche il problema, se abbiamo una politica così vincolata a gruppi impeditoriali forti che hanno una fonte di guadagno nella costruzione dell'opera, l'utilità della stessa passa in secondo piano. Ora, possiamo dire che ci si possono essere, non voglio essere catastrofico, ci sono delle infrastrutture di cui il nostro paese ha bisogno, ma per esempio una critica fortissima che è sempre stata fatta al modello dell'alta velocità è che l'Italia ha voluto seguire il modello dell'alta velocità che hanno scelto i francesi, cioè linee ad alta velocità, alta percorrenza che hanno, devono collegare grandi città a forti distanze tra di loro e prive di centri urbani nel mezzo, anziché il modello tedesco, cioè potenziamento di linee attuali per collegare nel più breve tempo possibile città che stanno a poche distanze l'una dall'altra. Dopodiché è evidente a tutti che l'Italia è conformata molto più similmente alla Germania che alla Francia, perché in Francia tra Lione e Parigi non c'è nulla ed è piatta tendenzialmente e quindi se tiri una linea ad alta velocità può avere un senso per collegare velocemente due città. In Italia ci troviamo che fra Milano e Bologna ci sono cinque città con 200.000 abitanti che hanno pochi meno abitanti di quanti ne abbia Bologna e che con questo modello di alta velocità sono costretti, se devono prendere un treno, a cambiare treno a Bologna. In Italia l'unica area, se vogliamo, geografica del centro-nord, poi il sud, poi non ne parliamo perché il sud non viene considerato, come se non abbiano il diritto di spostarsi tra Napoli e Bari, le persone tra Napoli e Bari non c'è stanno treni o comunque di condizione pessima. Ma l'unico territorio, se vogliamo, simile in qualche modo alla Francia è la Firenze Roma, che è colline e poco abitate e poco presenti, grossi centriabitati. Tutto il resto, costruire un'alta velocità in pianura padana, dove sono tutte città con, importanti a punto di vista economico, perché Verona ha una città rilevantissima a punto di vista economico al pari di Venezia, importanti dal punto di vista degli abitanti che ci stanno e quindi costruire ad alta velocità quando poi non ha senso utilizzarla perché tra Verona e Brescia i treni devono fermarsi perché c'è bisogno che si fermino sia Verona che a Brescia, è una stortura di fondo. Perché è stata fatta la scelta di imporre il modello francese? Perché conveniva a una serie di gruppi impeditoriali che hanno legami con una serie di gruppi politici importanti e quindi è questo quello che poi fa nascere movimenti di opposizione. In Massusa nessuno ha mai detto che non vogliono i treni, in Massusa hanno detto che non vogliono il raddoppiamento di una linea quando ce n'è una usata al 30% delle sue possibilità. Se queste le condizioni, perché dobbiamo spendere creando produzione di CO2, creando forti danni all'ambiente perché i tunnel creano forti danni, seccano fonti idriche, la montagna è presente dell'amianto, creano tutta una serie di altri problemi ambientali e soprattutto per qualcosa che è profondamente inutile. E quindi di nuovo torniamo al modello di democrazia. Dove devono essere spesi i soldi pubblici? Quanto è giusto che i soldi delle nostre tasche, noi contribuenti vadano a essere spesi per il raddoppiamento di un'opera quando c'è già una ferrovia che è usata al 30% e siamo in una crisi oltre che climatica, anche sanitaria. Adesso ci accorgiamo di quanto abbiamo bisogno gli ospedali, di quanto hanno bisogno le scuole, di quanto hanno bisogno la messa in sicurezza del territorio, che ogni volta che arriva un autunno abbiamo paesi che franano, città che franano, alluvioni e devastazioni di ogni tipo. Il problema, torno a dirlo, appunto è sistemico e quindi è per questo che quello che accade, particolarmente in Val di Susa perché c'è stata una maggiore capacità e maturità del movimento di elaborare una visione e una modalità di reazione, però quello che accade è appunto che bisogna partire dall'opposizione a delle lotte concrete e solide come quelle che hanno portato avanti gli attivisti valsusini, riuscire a ripensare il modo in cui ci rapportiamo tra esseri viventi e territorio e quindi il concetto stesso di democrazia, cioè chi ha potere sul territorio, cercando di guardare quanto più in termini sistemici e non particolari e quindi all'interno di una crisi climatica emergenziale, quale è quella in cui viviamo, quali sono i passi reali e concreti che può avere senso fare. Questo movimento Tav lo richiede a tempo e lo ribadisce in tante delle sue lotte e delle sue battaglie e questo è quello che per me danno anche da insegnare a tanti contesti simili, a tanti luoghi simili dove si portano avanti simili battaglie nell'ottica della giustizia sociale, nell'ottica dell'utilizzo più onesto, più sano, delle risorse pubbliche e nell'ottica appunto di pensare a un modello alternativo anche della stesso concetto di democrazia e quindi di rapporto con la possibilità di presa di decisione rispetto a un territorio, visto che quando passiamo alla struttura Stato arriviamo a dei livelli di interesse e di rapporti associativi e di clientele eccetera che impediscono che si ricerchi il bene collettivo, il bene comune. Io mi fermerei qui perché ho già detto tante cose, tante informazioni. Grazie mille Riccardo, grazie mille. e ho imparato molto e aspettiamo se ci sono delle domande da parte dei partecipanti alla formazione o da chiunque altro e invito ancora chi non l'ha fatto a scrivere il proprio nome o mettere un mi piace così poi prenderemo le presenze per la formazione e vediamo se c'è qualche domanda che ci appaiono qua sulla destra. Allora qui tutti hanno messo ciao, perfetto. Ah, Blanca. Blanca ti leggo, ci chiedo. Super interessante ma anche frustrante questa presentazione, grazie di condividere e spiegare. Ho due domande, quali azioni sono attualmente in corso per criticare questo progetto? Non è stata chiesta una dichiarazione alla Commissione europea sull'impatto ambientale di questo progetto, sapendo che hanno il European Green Deal? Ok, le valutazioni di impatto hanno avuto una trafila lunghissima nel corso degli anni. Diciamo che per una serie di... Pensate appunto, ho presciuto davanti dagli anni 90, per cui pensate quante volte, quante trafile sono state passate. Purtroppo, come spesso accade, alla fine anche questa valutazione di impatto la fanno gli stessi politici che portano avanti le decisioni sul territorio e quindi alla fine è stato deciso che potesse avere il via libera per potersi attuare. La contraddizione con l'European Green New Deal è estremamente vera, ed è una contraddizione che, ripeto, ha fatto emergere la Corte dei Conti Europea, è la Corte dei Conti Europea che ha detto che quest'opera è in ritardo, quest'opera non ha consultato la popolazione, quest'opera ha sovradimensionato i propri vantaggi, i propri benefici che non sono così forti. Lo Stato italiano lo ha ammesso nel novembre 2017, un documento interno della presenza del Consiglio dei Ministri che ha detto, beh sì, in effetti abbiamo un po' sovrastimato, potrebbero non esserci questi vantaggi, ma comunque andremo avanti e la faremo lo stesso. E quindi, sì, ci sono le azioni per riuscire a fermare il progetto, ormai la via, le strade istituzionali e le percorse tutte. Dovrebbe essere una volontà politica, una volontà politica che neppure il Movimento 5 Stelle, una volta arrivato al governo, è riuscito ad attuare. Mi pare molto significativo, visto che avevano usato questa come una delle loro bandiere e i cavalli di battaglia per tanti anni. Se vuoi continuo a rispondere anche... Sì, lo legge. Blanca, se non è chiaro qualcosa puoi continuare a scrivermi, adesso sto leggendo anch'io. Rispondo anche ad Antonella, dicendo che c'è una costruzione mediatica rispetto a quello che è la situazione in Valsusa, che è finalizzata a rappresentare il Movimento Notav con Movimento Non Violento e per cui c'è una volontà esplicita di finalizzare tutto all'esemplificazione di scontri e quindi di violenza commessa da parte dei manifestanti. Se ci si avvicina molto più al movimento in sé, ci si accorge che la situazione è molto diversa, che è un movimento estremamente variegato, che ha avuto la sua forza proprio nel riuscire a tenere assieme tante persone diverse per culture politiche e per capacità appunto di opporsi e di relazionarsi con l'attivismo. È un movimento che ha scelto di essere popolare, quindi di includere tutte e tutti, e che ha scelto che la linea che ha scelto rispetto alla non violenza è che la non violenza rimanga sempre nei confronti delle persone, quindi non è scelto quello come strumento, ma è legittima quella nei confronti delle cose. Questo è stato quello che il movimento è arrivato a definire nel corso degli anni. Dopodiché ha sempre avuto una modalità inclusiva, per cui ha cercato anche che questa scelta, che questa definizione di non violenza, non fosse uno strumento di divisione tra i buoni e i cattivi, che non aiuta mai alle conquiste sociali e al cambiamento, ma che potesse essere uno strumento inclusivo per far stare in una lotta a tutte e tutti in virtù dell'obiettivo comune. Spero di essere stato chiaro, Antonella, se vuoi scrivere ancora domande, falle pure. Una nuova domanda da parte di Emma. What are the chances that they will stop the constructions? Eh, le chances sono vere molto poche, Emma, purtroppo. Nel senso che questo avverrà per una volontà politica che finora nessun governo ha dimostrato. Oppure avverrà perché costretti da un movimento polare ancora molto forte, come quello verso Sino. Al momento i governi hanno continuato sempre a mantenere la loro presa dura e quindi la volontà a tutti i costi di imporre l'opera. Mi viene pure da dire che molti, tra le persone che hanno studiato proprio quello che è accaduto in Versusa, il movimento che si è creato, l'opposizione che è nata attorno al TAV, hanno fatto emergere che è una questione di fondo. Cioè che il... Sì, 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 grazie a te Antonella, poi poi richiudo su anche le notizie degli scontri. Stavo dicendo ad Emma appunto quello che emerge più chiaramente è che c'è una netta volontà da parte dello Stato di non far approvare di non anche se è evidente a tutti ormai che è un'opera inutile c'è un'evidente volontà da parte dello Stato di non interromperla perché sarebbe molto forte se riconoscesse che le ragioni di un movimento di questa portata e di questa longevità oltre 30 anni di movimento erano ragioni illegittime perché il movimento notave rappresenta una modalità di vivere e un sistema valoriale che per lo Stato non è accettabile e che diventerebbe un modello per tantissimi altri luoghi in Italia dove si potrebbe dire ce l'hanno fatta in Val Susa potremmo farcela anche noi quel sistema basato su partecipazione diritti uguaglianza no al profitto bene comune tutto questo che il movimento notave esemplifica e che fa sentire in tutte le circostanze in cui ti avvicini e lo capisci quel sistema valoriale se venisse se vincesse sarebbe uno smacco che lo Stato farebbe fatica a gestire non può far vincere il sistema di valori che si è creato attorno al movimento democrazia presa di decisione messa in discussione di qualcosa che viene dall'alto partecipazione bene comune interesse collettivo sono dei valori che sono apposti a tanti valori che sono tipici del capitalismo competizione gerarchia presa di decisione dall'alto sistema appunto individualistico tutto questo è messo in discussione quindi questo sistema di valori non può vincere non può vincere perché avrebbe una presa simbolica molto forte se vincesse e non può vincere perché attiverebbe tutta una serie di altre lotte in tante parti d'Italia che direbbero vedi loro ce l'hanno fatta possiamo farcela anche noi per queste due ragioni è molto complesso che riesca a vincere ma stanno comunque mettendocela tutta sì Antonelli volevo chiudere dicendo sì le notizie di sconto sono vere però anche quello appunto che dici di ieri notte era un presidio in un violento che è stato attaccato dalla polizia con lacrimogeni la popolazione è andata lì a volto scoperto di notte per difenderlo perché stavano ovviamente arrivando per poter poi lavorare iniziare con i lavori e la reazione della polizia è stata violenta per cui non c'è stato nessun atto violento da parte dei manifestanti se non difendere la terra e difendere il presidio la rappresentazione che poi vengono da tra le media è quella che hai visto questo non toglie appunto ripeto che tutti i notav siano perfetti non violenti gandiani ecco però partengono a culture politiche diverse scelgono di estremersi in modalità differente ma alcune cose vanno ricordate uno è la violenza che lo Stato agisce contro la popolazione valsusina è la militazione che agisce e due è che la scelta di non usare violenza contro le persone ma contro le cose sì con la modalità del danneggiamento del sabotaggio questo è una scelta che collettivamente Movimento ha mantenuto Arianna per quanto riguarda le pratiche ci sono stati dei mutamenti durante la pandemia beh ovviamente come tutti i movimenti sono stati messi in crisi dalla situazione pandemica anche perché all'interno di una struttura abbastanza di repressiva come quella che vivono lo Stato ha utilizzato le multe per la pandemia appunto perché uscivi di casa dopo le 10 di sera perché eri in zona rossa perché la manifestazione doveva essere statica e non lo è stato tutte queste cose qua sono state utilizzate dallo Stato per multare e quindi multando mettendo difficoltà a movimento e quindi non è stato facile riadattarsi non è stato facile anche perché hai bisogno collettivamente dei momenti collettivi cioè come abbiamo bisogno di farci un concerto tutti quanti assieme abbiamo bisogno anche di stare in un corteo assieme soprattutto se questo corteo rafforza le tue ragioni perché ti senti che non sei solo a lottare contro una cosa di così assurdo ma c'è una dimensione collettiva dietro quindi sì dei datamenti sono stati ma difficoltà altrettanto speriamo tutti di incamminarci verso l'ultima stagione di questa pandemia ecco questo lo speriamo di cuore lo sperano anche i massusini grazie mille Riccardo aspettiamo un secondo se ci sono altre domande Marzia ci manda un cuore Marzia Attivista Sci ciao Marzia a me una domanda riguardo appunto lo sci tu che sei stato anche coordinatore di SciItalia come lo sci si è interfacciato con il movimento Notav è riuscito a sostenerlo in qualche modo attraverso le proprie attività e negli ultimi anni un po' prima sì abbiamo fatto tante cose assieme abbiamo fatto dei campi estivi per due anni qualche volta sono riusciti qualche volta un po' meno perché eravano dei campi in cui si cercava di dare supporto a un presidio e e quindi appunto a volte funzionava come attività altre volte funzionava un po' meno era più problematica però sono stati perché il presidio è un presidio molto finalizzato rispetto al all'attivismo e e quindi non era facile riuscire a coniugare questo con le caratteristiche del campo sci ma sono state comunque delle esperienze belle e altre cose sono fatte tante iniziative e racconti fatti assieme e poi una cosa molto bella si è portato un gruppo di attivisti notav a conoscere la stazione palestinese quindi si è fatto un viaggio molto bello nel settembre 2013 e appunto a cavallo tra palestina e israele conoscendo contatti con comitati locali esperienze di resistenza è stato un bel modo per Movingtonotav di guardarsi allo specchio e di rafforzarsi e conoscere altre lotte e altre resistenze in altri luoghi del mondo perfetto grazie mille e aspettiamo se ci sono ultimissime domande e poi altrimenti ti lascerei libero Riccardo che hai fatto un bellissimo intervento hai risposto a tutte quante le domande vediamo ancora guardo su non ci siamo persi nulla ok intanto ne approfitto per ringraziare i partecipanti e le partecipanti della formazione che hanno seguito la nostra diretta e ne approfitto per ricordare loro che il prossimo e l'ultimo incontro almeno online sarà dopo domani ah un secondo Antonella scrive l'analisi che è stata fatta è di tipo ambientale ed assolutamente condivisibile considerando che lo sviluppo sostenibile deve mediare fra le valutazioni degli aspetti ambientali con quelli economici e sociali dal punto di vista economico e quindi del lavoro quale sarebbe il bilancio è un bilancio estremamente irrilevante nel senso che la questione che la TAV da lavoro è proprio crolla in sé come perché comunque è un lavoro precario comunque un lavoro per un breve tempo lasso temporale e comunque è un lavoro che potrebbe essere reimpiegato in tutta una serie di ambiti quali appunto la tutela del territorio la tutela ambientale per cui torniamo a dire che anche la pandemia dovrà averci insegnato che il modello capitalista in cui viviamo va ripensato e se va ripensato il modello va ripensato anche il lavoro che sta al centro del modello capitalista per cui non tutti i lavori vanno bene e quindi non può essere la dimensione lavorativa quella che giustifica o ci fa perché si diceva proprio di pensare a quale tipo di lavoro facciamo e perché li facciamo e quindi non c'è non è realmente un vantaggio nessun pochissimi i valsusini ci lavorano e più gente che viene da fuori cioè proprio non e comunque i numeri non sono rilevanti dal punto di vista economico invece è un tracollo economico perché stiamo parlando di 9 miliardi di euro le stime per cui sappiamo che poi costa sempre il doppio in un momento di pandemia con la crisi sanitaria in cui viviamo per un'opera che servirà a portare le persone e le merci in 45 minuti in meno tra Torino e Lione in cui ci vanno tre treni al giorno perché non c'è bisogno che ce ne vadano di più vale la pena 9 miliardi di euro per 40 minuti di tempo fra Torino e Lione tre treni al giorno ecco se uno guarda queste dati penso che il bilancio economico emerge in modo la palistiana 9 miliardi di euro ricordiamoli quanti ospedali si potrebbero costruire quante scuole si potrebbero costruire quanti vaccini si potrebbero comprare vorendo stare sull'attualità anziché stare dell'emosinarli e a sperare che qualcuno ci salvi parecchi ok grazie mille ancora Riccardo come dicevo rimando l'ultimo appuntamento per i partecipanti e le partecipanti alla formazione giovedì alle 18 non sarà una diretta facebook ma riceverete il link il giorno stesso dopo di che vi sarà anche un ultimo incontro in presenza ne parleremo comunque giovedì sarà durante il mese di maggio in diverse città italiane penso sia tutto grazie mille grazie mille Riccardo grazie mille a tutti i partecipanti e le partecipanti anche chi non partecipava non è iscritto alla formazione ma comunque ha seguito e si è interessato è stato davvero un bel intervento e grazie ancora e le partecipanti e le partecipanti ci vediamo giovedì grazie e chiudo la diretta buona serata buona serata a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti